Buongiorno a tutti, sono Giovanna Riccardi e sono un docente di microbiologia presso la nostra università. Sono un'italiana, amo il mio paese, odio questo coronavirus che sta distruggendo tutte le nostre vite. In ogni caso voglio dare un messaggio positivo. Grazie alla scienza lo sconfiggeremo come è stato sconfitto definitivamente il vaiolo. Siamo sulla buona strada per trovare un vaccino come pure farmaci in grado di contrastare la crescita del virus. Ho deciso di dare un mio personale contributo contro questa pandemia attivando una raccolta fondi attraverso la piattaforma Universitiamo coordinata dalla dottoressa Ilaria Cabrini in favore dei professori Fausto Baldanti e Raffaele Bruno. Sono due grandi medici di poche parole ma molti fatti come deve essere la vera scienza. Entrambi sono impegnati nelle corsie per curare i numerosi pazienti che approdano da loro ma anche nei laboratori per sconfiggere il virus. Per cui credetemi, donate, donate. Grazie.